Una protesta simbolica davanti alla sede dell'Inps, quella di Maddalena Taschetti, una lecchese che ad agosto è andata in pensione ma ha dovuto aspettare mesi e ha protestato per ricevere l'assegno perché l'Inps aveva sbagliato l'Iban a cui accreditare il sussidio. Oggi sono qui per protestare anche se poi effettivamente ieri pomeriggio all'alba delle 5 l'Inps mi ha mandato una mail dicendo che è tutto risolto e prima di febbraio prenderò gli arretrati a pensione e la pensione di febbraio. Ma la mia protesta è più che altro fatta anche per tutti quegli utenti che effettivamente non hanno né il modo né la capacità di volersi mettere in mostra e affermare un diritto che non è un diritto non acquisito ma anzi dopo 42 anni penso di aver dato abbastanza allo Stato. E questo è il motivo per cui vorrei far presente che l'Inps dovrebbe essere un po' più attenta alle persone perché rimanere sei mesi senza stipendio e senza pensione è una cosa che veramente ti debilita perché se pensiamo che con questa pensione una persona ci può vivere, ci deve vivere, è stato veramente per me un calvario dover andare avanti e indietro per ribadire dei diritti che pensavo di avere già presi dal primo di agosto, ho avuto pazienza, ho aspettato e tutto e invece scopro che questi miei diritti sono stati tranquillamente accantonati per, non voglio dire per incuria ma sicuramente per disattenzione. Ma perché devo essere io a far presente all'Inps una cosa che dovrebbe essere automatica, è stato fatto tutto regolare, non c'era niente di sbagliato e l'Inps sbaglia e deve aspettare che sia io a far presente un errore. Io ho lavorato nel privato e nel privato chi sbaglia paga perché invece nel pubblico ci devono essere queste cose così campate per aria quando effettivamente invece se si sbaglia bisognerebbe oltre a rendersi conto del proprio errore cercare di non farlo più.